Eccoci Invece una gara o un evento ragazzo? Tutte stelle, ciao! Ciao! Eccolo qua, vai via via! Ciao, ciao! Eccolo qua! Ciao, ciao! Salutiamo! Ciao! Ci vediamo! Tutti quanti! Dalla mezza di Bucinasco un grande saluto agli Ilpiralme! Eeeh! E' il bibicello di me! Il bibicello di Bucinasco un grande saluto! Questa sera il viaggio di Wendy? Se non ti riprenda adesso, non ti riprendi. Oh, so forti! Oh, so forti! Oh, so forti! E vai Francesco, vai! Alla grande! Oh, senza maglia d'ordinanza, però non vale. L'ho tenuta per domenica. Ah, l'hai pulita tutti presenti. Foto, eh? Sì, fotone! Super, mega fotone! Ehi, Luca, vai! Ciao! Allora, che caccia di tempo hai fatto? Mi bene che sei in ferie! Siamo ancora in ferie, fino a stasera siamo in ferie. Bene! Bella, eh? Bene, bene. Ora va bene. Mi spiace che gli altri sono arrivati tutti dopo, però... Vabbè, qualcuno doveva arrivare prima. Non ho fatto con questo sacrificio. Bene, bene. La beccacchietta! Ma scintillati! Cosa! E dai! Dai! Vabbè, vabbè! Faticosa! Dai! Bravo, bravo! Alla prossima! Mi sei divertito? È veramente una bella gara! E' pronto a organizzare le libri per l'avventura competitiva di domenica 6 settembre 2015? Prontissimo! Ok, bravo, bravo! Very cool.